Cacciamo qualche ribelle! Questi posti di comando sono tutto ciò che impedisce i ribelli di avanzare. Non dovete perdere! Ce n'è uno sullo scanner! Sì! 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 Gravata! La voia a tutti fatti! Sentiamo l'aria! Sentiamo l'aria! Non è altro che un contrattempo. Siete soldati dell'Impero in guerra contro un minuto inferiore. Sarete voi a prevalere. State pronti a nuovi ordini. I ribelli non hanno ancora smesso di attaccare. Dobbiamo difendere questi posti di comando. Salto alla reversa! Ribelle sottotiro! Mira! Come sai! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! Attenziamo la promettazione! Il tuo amico rilevato! Il tuo amico rilevato! Il tuo amico rilevato! I nuovi dati indicano che i ribelli attaccheranno queste posizioni non dobbiamo permettere! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! Inizio l'attacco! L'obiettivo! Boba Fett è dalla nostra parte. Un agente dell'infero è giunto ad assisterci. Trasformeremo questa umiliante ritirata in una gloriosa victoria. Tutti pronti? L'avanzata dei ribelli non proseguirà oltre. Qui è dove sventeremo il loro attacco una volta per tutte. Amici in zona! L'obiettivo! Parti che da sotto! 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 La forza ha stabilito un blocco. Mi tratterremo qui. Hans, lo è stato avvistato. La forza ha stabilito un blocco. La forza ha stabilito un blocco. Alleato delizio in arrivo. È la nostra occasione. Non conosci il potere del lato oscuro. La forza ha stabilito un blocco. Non sprecate il mio tempo. La forza ha stabilito un blocco. Non credo. La forza ha stabilito un blocco. 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 Fate un senso alla vostra amica. La forza ha stabilito un blocco. 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 Una forza ha stabilita un blocco. La forza è stata stabilita. La forza ha stabilito un blocco. Le forza è stabilita un blocco. Lo č e oltre ha stabilito la forza un blocco. Non lo trovi ancora e trovi ancora Bardo. è sicura. Ci penseranno due volte prima di attaccare di nuovo senza il team.